sono giunto poco sotto la sommità ma reputo non fattibile per il mio livello l'ultimo pezzo adesso provo l'altro versante fantastico non ci posso credere vedo come finalmente il vetto alcatria una cima fantastica ma super super perdita sia per la salita che per la precarietà nel sentiero però il panorama è bellissimo e non solo il panorama anche quello che dicono tutti i manufatti della guerra la clincea che arriva fino a passù parla della nostra storia bella infinitamente bella il giorno così celeste come un pianeta che mi gira intorno e brucia il fuoco si smappellire e lo fa come avesse sede che sentiero ragazzi è stato piccolo è stato piccolo Si smappide e mi fa ridere Pestemmiare e brucia il fuoco Si smappide Lei mi fa vivere e accende il giorno Così celeste Si smappide Si smappide Chi e il fiume Si smappide Chi e il fiume Si smappide Talente Felix che era un 22enne di Vienna che comandava queste truppe scelte fu poi spostato al Cavento a una postazione mitagliatrice. Fu promosso e spostato alle postazioni del Cavento nella guerra bianca ma morì al primo assalto italiano però il suo fordito di Dario, ci ha raccontato molto della guerra. Oh che divertente! Prati Mirango! Eccomi alla piagetta di San Lorenzo, ultima tappa in discesa prima del bicicletta di Condigno. Ci sta bene come un pianeta che mi gira intorno.